di investire in borsa a caccia di dividendi. Buongiorno, bentornati, bentrovati. Oggi parliamo di una splendida azione italiana. Parliamo di Snam Rete Gas, come vedete benissimo dalla copertina del video. Possiamo battezzarla come una delle mie azioni italiane preferite e andiamo anche a scoprire in questo video il perché di questa affermazione. Ovviamente non si tratta come sempre di un consiglio di acquisto ma si tratta comunque di un'analisi di questo titolo azionario, di questa azienda. Poi ognuno di voi in base agli spunti che fornisco potrà valutare se l'azione può essere adatta o meno al proprio portafoglio. Ovviamente come sempre sono ben accetti altri spunti operativi, opinioni, esperienze di investimento in questa azione. L'obiettivo finale è sempre quello della libertà finanziaria. Personalmente ritengo Snam un'ottima azienda da, fra virgolette, pensionato. Un tema di cui ho parlato ampiamente nel mio romanzo finanziario, pensionato a 50 anni, che trovate su Amazon in formato cartaceo e in formato digitale. Prima di partire vi chiedo se alla fine per supportare gratuitamente il mio canale YouTube volete mettere un bel like a questo video, mi darete una grande mano a crescere un piccolo gesto che può comunque servire a far crescere ancora di più questo canale. Ormai siamo quasi in 700, per chi non l'avesse ancora fatto vi invito a iscrivervi al mio canale attivando le notifiche e schiacciando sulla campanella per ricevere una segnalazione ogni volta che ci sarà un nuovo video. Ma partiamo subito con l'analisi di questa azione. Piccola premessa, all'interno degli investimenti azionari esistono i cosiddetti settori difensivi. Sono quei comparti che generalmente registrano oscillazioni di prezzo più contenute rispetto al resto del mercato. Sono molto gettonati nelle fasi ribassiste e comunque di incertezza del mercato perché consentono di limitare le perdite. Sono meno soggetti alle oscillazioni del ciclo economico e garantiscono generalmente un flusso di dividendi piuttosto stabile. Settore per eccellenza, settore difensivo per eccellenza sono i settori di pubblica utilità, quindi la sanità, le utilities, eccetera. Utilities. SNAM rientra nel settore delle utilities. Ricordiamo cosa sono. In italiano le possiamo chiamare società multiservizio. Sono quelle società che si occupano di erogazioni di due o più servizi pubblici. Ad esempio, la gestione idrica integrata, ciclo dei rifiuti, altri servizi per l'ambiente, distribuzione del gas, dell'elettricità, dell'illuminazione pubblica, le telecomunicazioni, parcheggi, trasporti urbani e extraurbani. Possono essere pubbliche a capitale misto oppure totalmente private. SNAM, in particolare, ha un capitale misto. Nell'azionariato di SNAM la parte del leone, possiamo dire, viene fatta da cassa, depositi e prestiti. Questo ulteriore motivo di interesse, perché sappiamo benissimo che lo Stato ha sempre fame di dividendi, quindi questa azione, come tante altre, sono comunque attente alla distribuzione dei propri utili ai propri azionisti. SNAM oggi, che cos'è? SNAM è una holding che controlla. SNAM Rete Gas che progetta, realizza e gestisce le infrastrutture per il trasporto del gas. GNL Italia, principale operatore di rigassificazione del gas naturale liquefatto. STOGIT, che si occupa di stoccaggio del gas naturale. E poi altre società che possiamo leggere qua sotto, comunque attive nel campo del gas del mio, del biometano, ed è anche azionista di Italgas, quindi 13% di Italgas. SNAM, allora SNAM all'interno del mio portafoglio ricopre una fetta abbastanza importante del portafoglio portafoglio stesso, infatti, essendo una singola azione, ricopre addirittura il 3,07% del portafoglio stesso. Una percentuale abbastanza importante che proviene anche dal fatto che nel corso del tempo comunque c'è stata una rivalutazione del prezzo delle azioni, quindi in sostanza l'aumento del prezzo di SNAM ha comunque aumentato anche il peso all'interno del mio portafoglio. È un raro caso di azione sul quale ho effettuato la cosiddetta mediazione al rialzo. Infatti, il primo acquisto di azioni SNAM, se non ricordo male, risale addirittura al 2008 o al 2009. Nel corso degli anni ho comunque aumentato la mia esposizione di SNAM nonostante il prezzo fosse a sua volta aumentato. Non mi sono fatto spaventare dal prezzo che aumentava, vedevo che i fondamentali comunque miglioravano il dividendo, aumentava, ho deciso di aumentare ulteriormente la mia esposizione acquistando altre azioni. Al momento ho 954 azioni di SNAM. Non escludo di aumentare ulteriormente la mia esposizione, ma vedremo quando e come nel proseguo di questo video. Allora, facciamo un rapido excursus sui valori fondamentali di SNAM. Ci appoggiamo a Morningstar, vediamo un rapporto PE, quindi prezzo fatto utile di 13,91 è diminuito nel tempo, negli ultimi mesi, in quanto comunque l'utile è aumentato. Il rapporto prezzo fatto utile più basso è e meglio sarebbe, fra virgolette, chiaramente bisogna valutare caso per caso, però possiamo dire in linea di massima che un rapporto prezzo utile di neanche 14 punti per SNAM indica un discreto momento per l'acquisto. Il dividendo, segnalato da Morningstar, è 5,32%, ricordiamocelo questo. Qui abbiamo gli ultimi tre anni l'aumento dei ricavi netti, come possiamo vedere, dati in crescita, stessa cosa per l'utile netto e per ovviamente l'EPS. L'EPS è l'utile per azione. In basso a destra vediamo il dividendo, che ricordiamo è distribuito semestralmente, due volte all'anno, 24 centesimi all'anno, ampiamente coperto dall'utile che è di 33 centesimi. Quindi anche il rapporto payout, quindi il rapporto fra dividendo e utile, ci mostra come il dividendo distribuito è sostenibile dall'azienda. ROE, molto buono, 17,81. ROE è il return on equity, quindi il ritorno dalle azioni sostanzialmente. Procediamo, vediamo il grafico massimo, quindi partiamo dal 2002, come mi piace a me, guardiamo a lunghissimo termine l'andamento dell'azione, una crescita, un trend di crescita sostanzialmente crescente nel corso degli anni, ovviamente ha avuto i suoi alti e i suoi bassi, ma possiamo vedere come tutti i minimi annuali sono quasi in fila su una linea retta. Quindi questo grafico cosa mostra? Mostra probabilmente interessante l'accumulo sulle fasi di debolezza dell'azione, come ad esempio è avvenuto quest'anno in marzo-aprile, ho comprato un pochino di snum, sono rimasto veramente soddisfatto di questo acquisto. Se dovesse calare ulteriormente penso che potrei espormi ulteriormente, questi qui ovviamente sono opinioni molto molto personali. Attualmente il prezzo è di 4,41, direi che se l'azione si avvicinasse a 4 euro, magari anche qualcosina sotto, potrebbe essere un livello interessante di acquisto, considerando anche che il dividendo attuale è oltre il 5%. Dividendi distribuiti, allora come possiamo vedere nel corso degli anni, tutti gli anni non ci sono state interruzioni dal 2004 ad oggi nella distribuzione del dividendo. dal gennaio 2018 è stato rivisto un pochino la politica del dividendo, il dividendo viene distruito ogni sei mesi, una crescita costante del dividendo stesso, in particolare questa politica è stata presa dopo che nel 2016 è stato. C'è stato lo spin-off di Italgas, quindi anche i dividendi dal 2016 indietro nel tempo sono comunque influenzati dal fatto che c'era Italgas in pancia a Snam e quindi l'utile e di conseguenza anche il dividendo distribuito erano molto più alti. Con lo spin-off di Italgas il dividendo è sì calato, ma dovuto al fatto che comunque il dividendo non più distribuito da Snam era comunque distribuito da Italgas. Proseguendo possiamo vedere anche il sito Investig. Interessante fare un confronto perché a volte i dati potrebbero risultare diciamo falsati. Come abbiamo visto in precedenza, in precedenza il rapporto prezzo frattutili di 13,9 è confermato, quindi quello che avevamo visto su Morningstar è confermato. Il valore dell'EPS utile per azione era 0,33, qui 0,32, sarà magari una questione di arrotondamento, però possiamo dire che ci siamo, siamo in linea, il dividendo è quello, non ci sono dubbi, 0,24. È arrotondato anche questo, in realtà sarebbe leggermente più basso, 0,23,79 se non ricordo male. La percentuale del dividendo avevamo visto nell'altra schermata, torniamo a vederla, 5,32, in questa schermata di Investing da 5,77, quindi una lieve differenza, non lievissima, 0,45% di differenza non è poco. Il dividendo, dividend yield è molto facile da calcolare, semplicemente prendiamo il dividendo, facciamo la divisione per il prezzo della azione, quindi facciamo questo rapporto, l'ho fatto con la calcolatrice e mi risulta 5,37, quindi dato di Investing errato, dato di Morningstar corretto, probabilmente non è aggiornato, manca qualche centesimo. Comunque, come vediamo in questo caso, caso scuola, è sempre utile fare il confronto fra vari dati, magari andando su siti differenti. Ultimo dato che mi piace, guardare il beta 0,3 per valori inferiori a 1 di beta, vuol dire che l'azione è decorrelata dal resto dell'indice azionario. Più basso è questo valore, maggiore è la decorrelazione. Cosa vuol dire? Che generalmente non segue perfettamente l'andamento dell'indice azionario di riferimento, ovvero in questo caso il Fuzimib. Nel caso di SNAM, tanto meglio il Fuzimib performa storicamente in maniera abbastanza negativa rispetto a tantissimi altri indici azionari, SNAM invece abbiamo visto come ha avuto una crescita sostanziale nel corso degli anni. Anche in questo caso possiamo vedere il grafico di lunghissimo termine. Nel 2002 quotava 2 euro l'azione SNAM, adesso siamo a 4,41. Prezzo più che raddoppiato, più l'incasso di tantissimi dividendi, come abbiamo visto in questa schermata, estremamente generosi. Abbiamo visto quindi un'azione italiana, ne analizzo abbastanza poche di azioni italiane perché si tratta di aziende che spesso non sono particolarmente attente agli azionisti interessati ai dividendi. Siamo davanti, secondo me, in questo caso invece a un'azienda con una politica veramente interessante in fatto di dividendi, un business regolamentato, la fin fine. Il gas credo di poter dire, ma smettetemi pure nei commenti, che meno male si utilizzerà sempre. Siamo davanti comunque ad un'azienda anche veramente all'avanguardia dal punto di vista tecnologico. Ci viene invidiata un pochino in tutta Europa, ha interessi anche al di fuori dell'Italia. Quindi se avete commenti, cose da aggiungere, obiezioni o comunque magari volete condividere le vostre esperienze di investimento su SNAM Rete Gas, scrivete pure nei commenti a questo video YouTube. Come sempre mi trovate anche sul blog WordPress, sulla pagina Facebook, sull'account Twitter, su quello Instagram. Per oggi abbiamo finito, un caro saluto a tutti.